Arte figurativa Arte figurativa protagonista in Galleria Civica Ezio Mariani. Elisabetta Maggioni, una delle migliori pittrici lombarde, racconta le sue visioni inattese. Una realtà poetica descritta attraverso i suoi disegni a birra. Mi piace la BIC perché è una tecnica più immediata. La posso utilizzare al momento, posso tenere una BIC in borsa, la posso tenere anche al lavoro. Ci sono degli atti in pausa, io la uso tranquillamente. Una capacità tecnica evidente anche nei ritratti a pastello da cui emerge la profondità psicologica del soggetto e nelle opere a olio. L'olio invece è una tecnica un po' più lunga e bisogna approfondirla sempre, è una ricerca continua. Diplomata a pieni voti all'Accademia di Belle Arti di Brea, Elisabetta Maggioni ha esposto in diverse città lombarde e all'estero a Norden in Germania. La sua prima personale negli anni 90 presso la Galleria Civica di Brugherio. L'ultima nel 2012, l'antologica organizzata negli spazi dell'arte contemporanea di Colo. Visioni inattese, promossa dalla famiglia artistica seregnese con il patrocinio del Comune di Seregno, potrà essere visitata fino a domenica 3 luglio. Grazie. 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 Grazie.